Non solo nelle ricerche delle persone sotto le macerie o delle sostanze illecite negli aeroporti. Ora i cani vengono impiegati anche per fiutare la contaminazione delle acque. L'idea è venuta a Scott e Karen Reynolds. Marito e moglie con la passione per gli animali domestici e per l'ambiente. I due hanno deciso di addestrare i loro cani da soccorso nell'individuare gli scarichi illeciti dei sistemi di scolo e in altre infrastrutture idriche obsolete negli Stati Uniti. Il primo cane impiegato stato un incrocio di pastore tedesco di nome Seibol. Ad accompagnarlo un incrocio di colli di nome Logan. Entrambi hanno dimostrato una gran capacità nel fiutare il batterio e schericchia coli. Detto e, coli, quali tu utile per capire se sono presenti scarichi umani nelle acque. Scott ha una laurea in studi ambientali e aveva una certa esperienza di lavoro nella formazione dei cani da salvataggio racconta Karen Reynolds a Radio W.I.Lunga R. Abbiamo cercato ed esaminato molti cani, selezionandoli sulla predisposizione a una naturale curiosità nella ricerca di particolari odorie che amassero l'acqua. Per spesso di capita di lavorare nei canali di scolo. Abbiamo salvato Seibol da un rifugio. Ora conosciuto in tutto il paese come Seibol lo sniffer. Seibol lavora dal 2007. Logan dal 2009. Quando fiutano tracce del batterio nell'acqua. Hanno due comportamenti diversi. Il primo abbaia. Il secondo si siede. I coniugi Reynolds hanno anche creato l'azienda Environmental Canine Services che, con il deterioramento delle infrastrutture idriche in molte zone degli Stati Uniti, sta avendo successo. Il nostro metodo rapido è conveniente. Abbiamo avuto tante richieste soprattutto dalle piccole comunite per fare questo tipo di lavoro. Perci altri metodi richiedono molto tempo. Sono costosi e richiedono molto lavoro.